In esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP su richiesta della Procura di Cosenza sono stati arrestati sei soggetti italiani ed extracomunitari. Gli indagati sono accusati di aver fornito la permanenza illegale in Italia di numerosi stranieri, in particolare, secondo l'accusa, attraverso la presentazione di false attestazioni allo sportello unico per l'immigrazione per attivare e concludere la procedura di emersione dal lavoro irregolare che consentiva di richiedere e ottenere titoli di soggiorno per regolarizzare la permanenza sul territorio italiano. Uno degli arrestati, extracomunitario, è indagato anche per il reato di estorsione nei confronti di alcuni connazionali. L'operazione ha impegnato, oltre ai poliziotti della squadra mobile, anche equipaggi del reparto prevenzione crimine. Organizzavano assunzioni false per poter creare le condizioni a fare ottenere il permesso di soggiorno a migranti irregolari, facendosi pagare fino a 5.000 euro a testa. E' questo il modus operandi di sei soggetti arrestati e posti ai domiciliari stamani dalla Polizia a conclusione di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza, diretta da Mario Spagnuolo, con l'accusa di favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato. Tra gli indagati figurano anche un commerciante di appigliamento e un commercialista. Le indagini sono iniziate in seguito a Marissa verificatasi la sera nel maggio 2021 in piazza Bilotti a Cosenza, tra alcuni venditori ambulanti extracomunitari che si erano affrontati per contendersi gli spazi. Dalle indagini è emerso che la violenta collottazione era stata motivata dalla pretesa istorsiva avanzata da uno di loro nei confronti di alcuni connazionali. Gli investigatori della squadra mobile di Cosenza, sotto le direttive del questore Giuseppe Cannizzaro, avrebbero accertato che gli immigrati, a fronte del pagamento di somme di denaro, sono riusciti a ottenere, grazie a dichiarazioni e documenti attestanti, falsamente, la presistenza di rapporti di lavoro, il rilascio di permesso di soggiorno. Gli stessi provvedevano anche a varie incombenze amministrative nell'interesse dei loro clienti. Al termine delle indagini, la Procura ha chiesto e ottenuto dal GIP l'emissione del provvedimento restrittivo eseguito da personale della squadra mobile di Cosenza.